Sottosegretario, dal 2 febbraio è entrato in vigore il nuovo decreto che prevede delle nuove norme e regole per gestire la pandemia all'interno delle scuole. Come procede? Sembra che stia andando bene, era necessario e doveroso uno snellimento delle procedure perché effettivamente si erano creati dei problemi, delle criticità, soprattutto perché con l'aumento del contagio e la necessità di fare più tamponi era davvero difficile per le famiglie e per le scuole effettuarli. Una delle battaglie del Movimento 5 Stelle, sua in particolare, è la riduzione delle classi pollaio. Quando riusciremo ad avere questo risultato? Siamo a buon punto nella misura in cui sia con il governo Conte II che, devo dire, con questo governo, quindi con la mia presenza al Ministero, abbiamo evitato intanto il taglio dei docenti perché per la denatalità avrebbero dovuto tagliare il personale scolastico e abbiamo evitato che questo accadesse. Questo che cosa ci permette di fare? Di programmare in futuro un numero minore di alunni per classe, ma ovviamente c'è bisogno di più docenti. Inoltre sono partiti i concorsi, il concorso ordinario per assumere ulteriori docenti. È fondamentale, già con lo scorso governo, con l'ex ministra, sono state realizzate 40.000 aule in più. Sono sorte per necessità e urgenza Covid, ma effettivamente sono spazi aggiuntivi. Quindi una volta che noi abbiamo più docenti, abbiamo più aule e più spazi, il passaggio successivo sarà la modifica della norma. Ci saranno mai dei finanziamenti per i purificatori nelle aule e nelle scuole? Sì, allora mi dà l'opportunità di fare chiarezza. Intanto già nel decreto sostegni del 2021 furono stanziati 150 milioni che potevano essere utilizzati anche per l'acquisto di purificatori d'aria piuttosto che di sistemi di ventilazione. Inoltre i 350 milioni del decreto sostegni BIS vedono non soltanto la possibilità di acquistare strumenti di ventilazione meccanica, ma anche adesso, questo si farà a breve con il decreto proroga del 24 dicembre, avremo l'opportunità anche di acquistare apparecchi di sanificazione e igienizzazione. Quindi le risorse ci sono e c'è anche la possibilità normativa di acquistare queste strumentazioni, ma ricordo, e non è banale, che è fondamentale periodicamente, quindi non in maniera stabile, ma periodicamente all'interno delle aule, davvero aprire le finestre per far cambiare l'aria, perché detto da esperti dell'Istituto Superiore di Sanità, è il miglior metodo per rinnovare e sanificare l'aria. Lei nei giorni scorsi ha parlato anche di una fornitura di FFP2 nelle scuole, ma garantite solo agli studenti, agli insegnanti, a tutto il personale, o solo a coloro i quali seguono magari tutti coloro i quali appunto non possono portare la mascherina? Come verrà gestita questa cosa? Allora, anche su questo mi dà l'opportunità di fare chiarezza. Sono due diverse norme, la prima che stanzia 5 milioni di euro attraverso la struttura commissariale e che fornisce direttamente alle scuole mascherine per i docenti e il personale che ha a che fare con i bambini piccoli al di sotto dei 6 anni che non possono tenere la mascherina, quindi per proteggersi e in più per i docenti che lavorano con i bambini, i ragazzini diversamente abili che non possono indossare la mascherina. Quindi queste mascherine FFP2 vanno al personale per proteggerlo. In più sono stati stanziati successivamente 45 milioni per dotare le scuole di mascherine FFP2 in tutte le occasioni di autosorveglianza, così come la norma prevede. Queste mascherine però non vanno direttamente alle scuole, ma sono le scuole che le possono acquistare attraverso le farmacie e quindi possono regarsi nelle farmacie per prenotare le mascherine e averle. I ragazzi maturandi di quest'anno hanno nelle settimane scorse protestato per un esame di maturità più light. Che cosa ne pensa? Ma io ritengo che abbiano ragione. Nella misura in cui non è che deve essere più light l'esame, ma vissi due anni di pandemia e di DAD, era opportuno quest'anno ricominciare in maniera graduale con un esame scritto, quindi una sola prova è possibilmente quella di italiano, che dava l'opportunità anche ai ragazzi di esprimere il loro pensiero, la loro interpretazione del reale. Si è pensato di aggiungere la seconda prova, anche se io non ero d'accordo, ma ho gradito e ho partecipato alla scelta di almeno fare strutturare la seconda prova alle commissioni. Le commissioni sono formate da docenti delle classi e quindi i docenti sanno i ragazzi in quella determinata disciplina di indirizzo, latino-greco, fisico-matematica, i ragazzi cosa sono in grado di affrontare. E quindi la prova sarà modellata sulle loro capacità e quindi dico ai ragazzi di non preoccuparsi. Grazie a tutti.